buongiorno a tutti voi e bentornati nel nostro canale su youtube qui vediamo una lente positiva che ingrandisce mentre l'altra è una lente che rimpicciolisce vediamo qui l'altra lente queste due lenti di vetri differenti che hanno un indice di dispersione differente vengono cementati insieme in questo caso non verranno cementati ma vengono appoggiate una sopra l'altra per mostrarvi come funziona un doppietto il termine corretto e doppietto cromatico perché vengono corrette le aberrazioni cromatiche grazie per aver visto questo video e vi chiedo gentilmente di iscrivervi al nostro canale grazie buongiorno grazie